Il romeno Ioanna Silvio Sushu Romania che in questo momento conduce la classifica provvisoria Due avvitamenti e mezzo per lui Ci avviciniamo velocemente alla fine anche di questa rotazione E daremo poi brevemente la linea alla regia di Roma Che ce la restituirà appena in tempo per assistere alla quinta rotazione Il cavallo con maniglia Dicevamo che per noi è significativa perché è rientro di...